E qui siamo sempre sulla via Verrotti da MR Auto. Signor Michele, come vanno le cose? Buongiorno. Beh, diciamo benino. Abbiamo degli alti e bassi, sembrerebbe un po' di ripresa, poi si ferma il mercato, però sappiamo perfettamente. La vendita dell'auto oggi è un po' particolare, insomma. Benino perché il bicchiere è mezzo pieno o perché è mezzo vuoto? Perché alcuni mesi sembra che ci sia una ripresa, comincia bene il mese e poi man mano andiamo sul normale, non ci sono più quelle belle vendita di una volta. È vero, d'altronde le notizie che ci danno i giornali, se si parla bene, se c'è la schiarita, la gente è più fiduciosa quindi spende? Certamente, dipende anche molto dal governo, se fanno alcune corte, perché ci sono tutti dei perché, tutte indecisioni e quindi la gente in questo momento non spende. Magari spende più per cose o dienne che servono normalmente e l'auto la rimanda sempre, fin quando non ne può più. Lei arriva dal Molice, perché via Verrotti a Montesilvano? Beh, perché penso che questa è una strada molto nota e anche molto trafficata, quindi essendo molto trafficata, noi avendo le macchine fuori abbiamo una visibilità diversa da uno che ha un'attività all'interno. Quindi potenzialmente si vende di più? Potenzialmente sì, si dovrebbe vendere di più, però lo speriamo tanto. Senti, la via Verrotti, come ha detto lei, è trafficata, insomma, ci sono molte macchine, molta gente di passaggio. È il viandante che si ferma qua o, come dire, colui che passa per caso oppure... Beh, oddio, diciamo che questo locale è anche molto conosciuto e molto noto perché prima c'era una concessionaria, quindi noi abbiamo rilevato dove era già conosciuto il locale. Molte persone si fermano, molte persone, anche perché avendo dei centri commerciali vicino, quindi abbiamo anche la possibilità che quando uno si ferma, viaggiando, diciamo, per la strada si ferma normalmente. Che tipo di macchine lei vende, che tipo di clientela si avvicina a voi? Ma guarda, abbiamo il Medioceto, quindi vediamo delle macchine medie, non alte di gamma. Quindi non solo nuovo, ma molto usato? Diciamo che noi il nuovo non lo trattiamo, trattiamo il chilometro zero o la macchina semestrale. Senti, una curiosità per me, ma per molti altri, che significa questo chilometro zero? Beh, sono macchine immatricolate dalla casa costruttrice che poi vengono cedute ai vari concessionari. Quindi nuove? Nuove, sì. Sono solo immatricolate, però non hanno camminato. Che risparmio c'è in questo? Beh, risparmio c'è, una macchina che magari è un 20% o 25% di risparmio. L'IVA? Diciamo sì, diciamo l'IVA. Senta, parliamo dell'amministrazione comunale di Montesilvano. Secondo lei si adopera molto perché le cose vadano meglio anche sulla via Verotti? Beh, guardi, su questo non sono molto esperto perché non sono del posto. Diciamo che l'amministrazione comunale potrebbe fare qualcosina in più per questa strada, essendo molto trafficata, non so, anche limitare dei limiti, fare qualcosina. Però di più non posso dire perché non sono del posto, è da poco tempo che sono qui, quindi... E il governo Renzi come va? Il governo Renzi, lo sappiamo tutti come va. Cerca di fare qualcosa, però ad oggi, insomma, siamo ancora con la burocrazia allo stesso stato di tanti anni fa. Senta, nonostante tutto bisogna andare avanti o c'è uno spiraglio? Beh, io penso che bisogna andare avanti, per forza. Anche perché se ci fermiamo non ci facciamo male. La ringrazio, MR Auto, via Verotti. Via Verotti. Perché siamo sulla via Verotti. Grazie. Grazie, a te.